Buongiorno, siamo qui con Fabrizio Pisasale, Marketing Specialist della Partec, che ha tenuto lo specie Treat Management, la vulnerabilità delle risorse umane. Buongiorno. Pur rappresentando un'azienda altamente tecnologica, nel suo intervento ha focalizzato l'attenzione sul ruolo delle risorse umane nel complesso ecosistema della sicurezza informatica. Può spiegarci come mai? Sì, buongiorno a tutti. Fondamentalmente l'evoluzione tecnologica a cui in questo momento assistiamo all'interno delle aziende ha conseguentemente creato una forte evoluzione tecnologica nel mondo della criminalità informatica. Questo ha causato comunque un problema altamente forte nella protezione all'interno delle aziende perché oggi, nonostante i sistemi informatici siano altamente evoluti, pare che l'anello debole del sistema di sicurezza sia la risorsa umana. Questo perché sono le risorse umane che poi alla fine decretano o meno l'invio di un certo tipo di traffico. A questo proposito Partec si è impegnato altamente nel fornire soluzioni di tipo accrescimento di consapevolezza perché il problema fondamentale è che la consapevolezza delle risorse va elevata. A questo proposito è nata una linea che noi abbiamo definito educational proprio perché abbiamo l'obiettivo di creare una maggiore competenza a livello tecnico per evitare gli incidenti di sicurezza. Da un certo punto di vista esiste anche la possibilità che in caso di incidenti, secondo l'articolo 39, i sistemi, le aziende abbiano degli sgravi a livello di sanzioni. Quindi anche da questo punto di vista è importante formare le risorse. Approfondendo il discorso legato alla vostra linea educational, a chi si rivolge la vostra offerta formativa? L'offerta formativa si rivolge a tutte le risorse all'interno delle aziende sia dai semplici fruitori, diciamo, gestione dei dati di base sia ai tecnici specializzati che alle figure manageriali. Nello specifico con il GDPR, quindi con questi nuovi adeguamenti necessari a livello legislativo si stanno formando delle nuovissime competenze e queste competenze a livello aziendale hanno comunque bisogno di essere formate, di avere un know-how specifico su cui basare la loro offerta e noi ci stiamo occupando di dare lustro a queste nuove esigenze di mercato. Anche un utente ben istruito può sempre commettere un banale errore. Come possiamo gestire queste situazioni? Noi possiamo formare risorse, possiamo avere strutture altamente tecnologiche e comunque adeguate, aderenti agli standard legislativi. Questo è vero. Però l'errore umano può succedere e comunque fa parte anche del gioco. È in questo momento che la tecnologia deve necessariamente entrare in azione. E quindi oggi sia a livello legale che a livello di infrastruttura le aziende devono dotarsi di strumenti altamente evoluti. In questo caso Partec si è dotata di vendor, di partner altamente qualificati. Mi riferisco a Sophos che è l'azienda che fornisce le nostre soluzioni a livello di infrastruttura che è un'azienda che fornisce prodotti modulari integrabili che si occupano di protezione degli endpoint, di anti-ransomware, di criptografia dei dati e di tutte quelle attività di sicurezza perimetrale che permettono a un'azienda di stare tranquilla. Tutto questo risolve fondamentalmente ogni tipo di esigenza sia a livello di rimedi di garanzia di business continuity sia per quello che riguarda gli adeguamenti legislativi che è la possibilità di avere degli sconti di sanzione nel momento in cui poi accadano queste situazioni. Va benissimo, la ringrazio. Grazie a lei, buona giornata.